mi trovo a taranto al quartiere tamburi precisamente in via ugo foscolo e voglio mostrarvi le stranezze di questa strada dovute a quella che io definisco una follia tra virgolette nella realizzazione di strade marciapiedi pubblica illuminazione partiamo dal dato più inquietante una illuminazione a metà guardate infatti c'è questo lato questo pezzo questo tratto di lato che grazie a dio vedete i lampioni della pubblica illuminazione sono le lampade sono accese ma se noi ci spostiamo faccio una piccolissima rotazione guardate qui tutto spento tutto buio e sul versante destro e sul versante sinistro ma altra anomalia lo lo vedete mentre lì in fondo vedete sul lato destro ci sono le luci sul lato destro invece questo tratto di via foscolo vedete sempre sul lato destro tutto buio luci spente quindi già questo significa che la manutenzione del della pubblica illuminazione e avviene così fa è fatta con i piedi quindi ci sono i fortunati che godono della luce e gli sfortunati invece che vivono nelle tenebre guardate qui che buio guardate quindi diventa anche una situazione pericolosa guardate buio buio questo per quanto riguarda la pubblica illuminazione ma andiamo avanti marciapiedi sono stati realizzati marciapiedi qui come in altre in altri tratti di via del dei tamburi marciapiedi estremamente larghi guardate da qui fino in fondo non so cosa facciamo sindaco melucci assessore ai lavori pubblici che facciamo mettiamo i tavolini facciamo i mercati ci sdraiamo cosa facciamo mettiamo i tavoli la domenica e facciamo le tavolate quindi una carreggiata una un marciapiede estremamente grande sproporzionato rispetto alla carreggiata che questa vedete sta passando la macchina questa è la carreggiata che risulta molto ma molto angusta e che può passare soltanto una macchina motivo per cui se c'è un mezzo pubblico che ha urgenza di dover transitare penso a un'ambulanza penso ai vigili del fuoco penso a un alle forze dell'ordine e si trovano una macchina davanti che blocca il transito qui la povera ambulanza col povero malato rimangono lì ad aspettare che follia è stata di fare vedete dei marciapiedi enormi guardate da qui fin lì cosa facciamo sindaco melucci cosa facciamo ci facciamo una passeggiata qui ci sdraiamo una corsa invece la carreggiata estremamente stretta ma c'è di più un'altra follia in genere tra manto stradale e marciapiede c'è un dislivello c'è un cordolo no c'è un dislivello cioè qui no è tutto parificato guardate un continuum che parte dal dal marciapiede e prosegue per il manto stradale tutto qui vedete tutto continuo è una follia perché poi purtroppo come spesso avviene il motorino che deve sfrecciare che non che trova la la carreggiata occupata che fa bypassa e salta sul marciapiede poi magari sul marciapiede sta camminando la persona l'anziano e rischia di essere di essere travolto ma oltre a questo quindi già quest'altra anomalia di farli allo stesso livello cosa mai vista forse in tutta italia non si vedono mai marciapiedi e carreggiate allo stesso livello ma un'amministrazione che pure vuole risparmiare in genere si fa il manto la carreggiata di asfalto che chiaramente è più resistente e i marciapiedi i mattoni qui addirittura quest'altra follia permettersi il lusso di fare udite udite la carreggiata dove qui dovrebbe esserci l'asfalto abbiamo i mattoni una cosa vista cioè abbiamo a taranto delle strade delle strade in cui dei marciapiedi dei marciapiedi in cui mancano i mattoni e viene messo al posto dei mattoni l'asfalto e invece qui dove dovrebbe essere messo l'asfalto cosa si fa si mettono i mattoni ma veramente non condivido quello che ha scritto il libro del famoso generale il mondo al contrario ma devo dire che a taranto qui la mini con l'amministrazione melucci veramente il mondo è al contrario ma ecco è al contrario in un modo patologico in un modo folle io con tutto il rispetto per i progettisti ma vorrei sapere se i progettisti forse quel giorno in cui hanno progettato avranno preso un bel colpo di sole o forse saranno caduti dalla sedia avranno battuto la testa e poi hanno dato i numeri perché qui si tratta soltanto di aver fatto una cosa di aver fatto una scelta scriteriata folle folle ripeto ditemi voi al di là dei problemi della pubblica illuminazione può essere cattiva manutenzione e il problema lo si risolve no bene o male lo risolviamo il problema il disagio si si capisce il problema ed è risolvibile ma questa follia una follia che non c'è stata qui solo in via ugo foscolo ma c'è stata in via manzoni come detto prima in piazza gesù di vin lavoratore marciapiedi enormi carreggiata strettissima boh e lo ripeto sulla carreggiata anziché l'asfalto cosa mettiamo i mattoni quindi chiaramente i mattoni essendo più deboli dell'asfalto facilmente si romperanno perché transitano anche i mezzi pesanti e mentre vai a colmare le buche dell'asfalto diventa un casino andare a ripristinare i mattoni insomma per dirla questo non è solo un caso perché questa strane queste stranezze stanno riguardando hanno riguardato tantissime strade parecchie strade del quartiere tamburi non so cosa dire forse avranno progettato avendo preso qualche botta in testa ma la frittata è stata fatta per i mattoni e per i marciapiedi quantomeno per cortesia per cortesia ridateci e ridate agli abitanti per cortesia ridate la luce la luce del signore anzi della pubblica illuminazione perché non si può stare in un quadro spettrale sembra davvero la selva oscura di dante alighieri a dimenticavo una cosa importante era stato nel fare lavori smantellato diciamo del verde pubblico a tutt'oggi ancora di ripristino di piante ed alberelli non v'è ancora traccia vedremo vedremo cosa accadrà cari amici da via foscolo quartiere tamburi è tutto i misteri di taranto tamburreggiano proprio qui in questa strada grazie grazie grazie